Gli annusatori resteranno a lavoro fino a marzo 2025. È stato infatti prolungato di altri sei mesi lo studio olfottometrico, come è deliberato dalla Giunta, che è stanziato altri 42.400 euro per un costo totale che supera così i 100.000 euro. Le segnalazioni erano iniziate nel maggio 2022, quando molti cittadini che abitano nelle zone di San Zeno, Le Poggiola, Ponte Chiani, Ruscello, Battifolle e Olmo, lamentavano la presenza di cattivi odori, che poi si sono intensificati a partire dal giugno 2023. Ad aprile scorso era così iniziato lo studio olfattometrico affidato all'Ecola Studio di Lucca. Erano stati selezionati gli incaricati, regolarmente retribuiti e formati a riconoscere gli odori tipici che sono stati oggetto delle ripetute segnalazioni. I nasi scelti hanno effettuato sopralluoghi in date e orari richiesti, seguendo percorsi prestabiliti e sostando impostazioni prefissate, dove eseguire la misurazione sensoriale, ovvero annusare l'aria di intervalli e inserire nel questionario la propria sensazione olfattiva. Inizialmente l'indagine sarebbe dovuta durare sei mesi, ma adesso arriva la proroga. L'obiettivo finale resta quello di produrre una mappa di frequenza e intensità degli odori.